Bellizzi il pieno nel giorno della Madonna dell'Immacolata, anche quest'anno si è svolto il rito della confraternita delle anime del purgatorio con la vestizione di due nuovi confratelli, mattinata densa di significato e carica di emozioni, in particolare per Domenico Tessa e Pellegrino d'Amore. Oggi festeggiamo la padrona della confraternita dell'Immacolata ed il 337esimo anniversario di costituzione di questa arci confraternita. La cosa clue è che ogni anno quando vi è l'anniversario dei novizi o delle novizie che si affratellano, si acconsorellano, se si può dire oggi, si deve dire questo termine femminile, di loro volontà vengono investiti dai ministeri laicali, ossia dopo l'omelia loro riproporranno le promesse battesimali, il parroco spercerà l'acqua santa e benedirà il mantello e il collare che gli verrà in posto. Da quel momento dovranno seguire un percorso di cattolici e apostolici romani, cioè di esemplari cristiani verso gli altri cittadini e fedeli della Chiesa. Il loro abito sarà sacro, dovranno comportarsi in modo speciale seguendo le urme del nostro Signore Gesù Cristo.